Sono stati mesi di lotta per i lavoratori Bekert, una lunga estate calda per l'importante stabilimento figlinese. Uno di sé è iniziato a giugno del 2018, quando fu comunicata la chiusura, e che si è protratta fino al 3 ottobre, giorno in cui è stato firmato l'accordo della Cassa Integrazione per i 318 dipendenti della fabbrica. Da allora si è aperta l'importante partita per cercare acquirenti disposti a rilevare lo stabilimento e a reindustrializzare l'area. Adesso la Bekert è chiusa, ma fra i lavoratori si è creata una fratellansia e un'amicizia profonda che è andata al di là della vertenza. Ogni martedì si ritrovano al Circolo del Cesto, località del comune di Filinincisa, per cenare e stare insieme. Un modo per non disperdere la forza e la lotta unitariamente condotta. Ieri 29 gennaio è stata la quarta volta che i lavoratori si sono ritrovati per la conviviale. Vi hanno preso parte 52 ex dipendenti Bekert ed alcuni rappresentanti della giunta, compresa la sindaca Giulia Mugnai. È diventato un appuntamento fisso quello del martedì per tenere alta l'attenzione sulla vertenza che ancora non è finita. Tutto è fatto, ci tengono a puntualizzare i lavoratori senza bandiere politiche o sindacali. E arriva anche un appello. Non ci lasciate soli, la nostra lotta continua. La strada per arrivare alla meta è ancora lunga da percorrere.